Ciao, ciao a tutti ragazzi, buona domenica, anche se non è il primo contenuto di oggi, poi ci arriviamo, Pagelle, Juventus, El Las Verona 1-0. Aspettando le partite delle 18 e delle 21, cerchiamo di respirare un pochettino quest'aria da primo posto che da troppo tempo non alleggiava un po' nei dintorni. Di Torino, della Juventus, dei bianconeri, dei tifosi, quindi oggi me la voglio proprio godere. Finché siamo primi in classifica, fino al momento in cui non ci sarà il fischio finale della prima partita dell'Inter, del Milan, del Napoli, quelle che sono, io voglio ripetere che la Juventus è al primo posto. Voglio ribadirlo, voglio ripeterlo, voglio farlo entrare nella testa anche dei giocatori. Però, come dicevo nel video di questa mattina, salutate la capolista, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Sì, siamo primi, assolutamente, ma non esaltiamoci. Non arriviamo a pensare che è tutto sistemato, tutto finito. Ci sono dei punti positivi e sono da cogliere, da prendere in considerazione. Ci sono ancora dei punti negativi, però quello che voglio dirvi è, fino a che siamo primi, godiamoci questo primato. Che non significa esaltiamoci, ma significa godiamoci. Perché è un attimo poi che le cose possano cambiare. È anche probabile che alla fine ci sarà un controsorpasso, ma ci sono buone possibilità, secondo me, di concludere comunque al primo posto questa giornata. Vediamo che cosa succederà tra San Siro e il Maradona. Allegri, voto 7. Perché, come vi dicevo ieri sera, quella di ieri non è stata una partita da 1-0. Juventus e la Sverona finisce sì 1-0 da tabellino, dal manacco, da storia, come gli ultimi due confronti, quelli dell'anno scorso. Tra l'altro l'anno scorso 1-0, 1-0, decisi tutti e due da Moise Ken. Questa volta Moise Ken ci arriveremo a parlarne, perché è stato mattatore, ma la Juventus porta la firma di Andrea Cambiaso. Io credo che la formazione sia stata giusta, che Allegri abbia indovinato la formazione, che la Juventus abbia creato, soprattutto nella seconda frazione di gioco, anche se già nel primo tempo aveva trovato un gol per un fuorigioco millimetrico. Ho letto un po' di polemiche su questa cosa, ragazzi, però il regolamento è quello. Io sono d'accordo che sia una follia perché l'attaccante non trae vantaggio, ma il fuorigioco semiautomatico ha chiamato, ha fatto questa chiamata ed è fuorigioco. Poi, secondo me, va a alterare troppo le partite, questa cosa, per veramente un millimetro. Purtroppo è fuorigioco, purtroppo è fuorigioco e da regolamento è giusto annullarlo. Ma rimane il fatto che la Juventus quella partita l'aveva già sbloccata nel primo tempo, era andata anche vicino sempre con Moise Ken con un colpo di testa e con un tiro di sinistro dopo una bella azione proprio sulla sinistra, costruita sulla sinistra anche in velocità. E poi Allegri, secondo me, semplicemente a Zecchi e Cambi, che è stato il grande merito della vittoria di ieri, perché poi Miretti entra e fa una bella prestazione, Chiesa dà la scossa, Milik fa l'assist, in realtà ne fa due, Cambiaso fa il gol, Ildis va vicino all'1-0 pochi minuti prima del gol di Cambiaso, quindi i cambi sono stati una variante veramente importante, impattante nella partita di ieri, quindi credo che il voto giusto per Allegri sia 7, finalmente una partita che mi viene da dire stradominata dalla Juventus, convincente dalla Juventus, abbiamo rischiato di non portare a casa solo perché sembrava la classica partita stregata, ma ieri sera ho visto veramente l'atteggiamento giusto da parte della Juve, mi dispiace solo vedere, come dicevo nel post-partito, questa è una piccola critica costruttiva che secondo me va fatta, se voglia rimanere in quelle zone lì, vedere una squadra che può dare ancora tanto di più davanti, perché al secondo tempo abbiamo visto che la Juventus ha aumentato i giri del motore, non si tratta di, uso il termine classico per farlo capire a tutti, di giocare bene, si tratta di avere l'atteggiamento giusto, di tenere i ritmi giusti, di voler andare a vincere la partita, sono queste le grosse differenze, e secondo me nel secondo tempo la Juve ha fatto meglio che nel primo, dove già aveva mostrato la volontà di portarsi a casa i tre punti, quindi voto 7 a Massimiliano Allegri, credo che sia stata un'ottima gestione della partita di ieri, poi ripeto, abbiamo rischietto di non portarla a casa, ma per altri fattori, c'è stata assolutamente una progestione offensiva. Voto 7, Scezni, che è stato un misto tra Scezni, perché anche ieri c'è stata la sua firma, dobbiamo abituarci a non attaccare e staccare la spina in continuazione, perché questa è un po' la nostra difficoltà, noi siamo una squadra, per come siamo costruita, che non può permettersi secondo me di arrivare all'ultimo minuto di recupero del primo tempo, con gli altri che hanno una grossa, grossissima occasione, che per fortuna Scezni va a disinnescare, un po' come aveva fatto Sujiru a San Siro, questa volta lo fa sul sinistro di Bonazzoli, dopo che Lellas aveva creato quell'azione lì. Diuric e Bonazzoli ci hanno un po' fatto dannare, ballare, diciamo così, soprattutto Diuric, che era un giocatore molto strutturato, che andava a prendersi la posizione tra UEA e Gatti, e quindi abbiamo un pochino patito questa cosa, però Scezni ci ha messo la manona, la palla entrava, non entrava, prendeva il palo, ha fatto bene a prenderla, l'insolito intervento da portiere della Juve, perché il portiere della Juve non deve fare 100, deve fare 1 ed essere determinante in quello. Ieri sera l'ha fatto. Wojtek Scezni, voto 7. Voto 6 e mezzo a Gatti, allora ho letto un po' di polemiche su Gatti, inerenti a quella lotta con Diuric, quel presunto pugno, presunto, effettivamente la mano la chiude, è tutto quello che deriva dall'atteggiamento, Gatti è un po' irruento, questo è un dato di fatto, secondo me ha dei momenti in cui perde lucidità, non è la prima volta che lo vediamo cadere in queste tentazioni. Per quanto riguarda invece la parte puramente tecnica, ha dato una spinta incredibile, a volte la Juve sembrava addirittura difendere, anzi più attaccare con una linea 4, con Gatti che saliva tantissimo, addirittura l'abbiamo visto in pressing, c'è stato un momento che è andato a pressare il portiere, era il giocatore più avanzato della Juve, ma soprattutto il gol dell'1-0 di Andrea Cambiaso nasce da un cross proprio di Gatti, dalla destra. Voto 6 e mezzo, direi che ha fatto la solita partita di lotta e ci ha messo anche quel qualcosa in più, perché se poi riusciamo a portare a casa la vittoria, nasce tutto da una pennellata sulla destra di Federico Gatti, quasi versione terzino-destro. Voto 6 e mezzo Rugani, c'è da fare veramente i complimenti a Daniele Rugani, perché? Perché questa solidità difensiva della Juve e questo momento di vittorie, due vittorie per 1-0 con Milan e Ellas, che secondo me sono due 1-0 completamente differenti, quello del Milan episodico a favore della Juve, quello di ieri episodico a sfavore della Juve, meno male che poi l'abbiamo buttato dentro, però ritrovare anche la vittoria, la solidità difensiva, andando a sostituire un giocatore importante come Danilo non è facile, ed è questa la grande forza di Daniele Rugani. L'altro giorno ho fatto il video su Ken, di cui vi parlavo, e vi dicevo che giocatori come Rugani, Ken e Rabiot, non soffrono tanto il fatto che ci sia un pregiudizio nei loro confronti, quanto più quello che è il costo a bilancio di questi giocatori, perché Ken è stato pagato 35 milioni e soffre quel fatto lì. Se Ken l'avessimo pagato 10, si staremmo sfregando le mani per un giocatore come Ken a 10 milioni. Se Rabiot non avesse uno stipendio da 7.5 milioni di euro netti a stagione, certo, con decreto crescita, ma quello è, non staremmo qui a parlare di un giocatore che deve darci di più, ancora di più, di quello che ci ha fatto magari l'anno scorso. Stessa cosa a Rugani. Rugani è una riserva che guadagna più di 3 milioni all'anno, 3 milioni e mezzo. Sono numeri, parametri davvero fuori contesto, fuori scala, fuori classifica per questa Juve. Per quello si sta trattando il rinnovo di Rugani per spalmare quell'ingaggio. Io sono assolutamente favorevole, perché uno come Rugani è un lusso, lo dico da anni, avere una riserva come Rugani è un lusso. Il problema è il costo di questa riserva, ma Rugani è uno che lo chiami in causa, lo metti lì e ti fa sempre la partita. È incredibile la lucidità che riesce sempre a mettere Rugani giocando e non giocando e la solidità difensiva che riesce a mettere Rugani. Poi io, lo sapete, sono dell'idea che non sia all'altezza di essere un titolare per tutta la stagione. Non ce la farebbe a fare tutta la stagione a questi livelli, ma è proprio qui secondo me la forza di Daniele Rugani. Essere chiamati in causa è rispondere sempre presente anche all'improvviso. Ed è un giocatore a tenersi stretto se riusciamo a trovare un accordo economico al ribasso, perché uno come Rugani come riserva in Serie A rimane un lusso. Lui era anni fa quando la difesa era composta dalla BBC, da tanti giocatori forti da BNTA e da De Ligt. Lo rimane oggi a maggior ragione con una Juve semplicemente più umile nel reparto difensivo. Voto 6 e mezzo a Bremer che sta iniziando secondo me un po' a carburare. L'ho visto giocare qualche pallone in velocità. Stiamo iniziando a ritrovare il Bremer che conoscevamo e ci serve assolutamente perché alla fine se ci pensiamo se la difesa titolare doveva essere quella dei brasiliani Alexandro è fuori, Danilo è fuori, l'unico rimasto è Bremer quindi è già più una difesa di italiani che di brasiliani. Abbiamo bisogno di ritrovare il vero Bremer e qualche gollettino perché qualche colpo di testa del nostro colosso di Tapitanga ci garantirebbe di soffrire forse anche un po' di meno perché la Juve deve ancora migliorare tanto dal punto di vista realizzativo. Voto 5 e mezza UEA Tiepido devo trovare una definizione alla partita di ieri è tiepido un UEA che ha un po' sofferto quella posizione tra Doig e Diuric perché Lella Sverona cercava spesso e volentieri di andare al cross di cambiare lato proprio su Doig per prendere in controtempo UEA che non ha ancora imparato a difendere come vorrebbe Allegri e come deve essere in maniera assolutamente efficace per una squadra alla prima posizione in Serie A ma ci arriverà perché ha una bella falcata secondo me anche un ragazzo intelligente ci può dare una mano sicuramente negli ultimi metri poi non so se il 3-5-2 è esattamente la sua posizione perfetta come stare adesso al 3-5-2 è ovvio che la Juve giocando in questa condizione lo deve mettere lì però mi sembra un giocatore con una bella corsa cioè se ragiono in prospettiva di poter andare un giorno a 4 ritrovarmi UEA a destra Chiesa a sinistra e Vlaovic in mezzo secondo me si può lavorare anche su una roba di questo tipo poi la Juve sta andando col 3-5-2 sta ottenendo risultati col 3-5-2 si continuerà così però UEA si vede che era un giocatore molto offensivo poi riadattato lì e ha bisogno di capire quel qualcosa in più perché sennò viene preso in controtempo sostituito a fine primo tempo la Juve aumenta i giuri del motore non so se è una coincidenza del fatto che sia uscito UEA o è entrato Miretti che ha fatto una buona partita foto 6-5 da McKennie io continuo a essere sorpreso e stupito dal McKennie 2023-2024 è un giocatore completamente ritrovato un giocatore davvero diverso un giocatore che si vede che è più in forma dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale un giocatore di sostanza che entra sempre all'interno delle partite in maniera pesante e poi ha avuto anche la possibilità di andare a servire l'assist per il gol dell'1-0 di Vlaovic che è stata lisciata poi è arrivato Chiesa in seconda battuta murato da tre difensori dell'Ellas che sono andati sulla riga a difendere molto bene la porta dove c'era Montipo che non poteva arrivare ma McKennie c'è sempre interno esterno dove lo metti sta e McKennie c'è voto 6-5 ma quella palla McKennie sulla destra per mettere da rimorchi dove poi Vlaovic la sliscia e bla 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 da Locatelli da Locatelli ed è una palla bellissima è una palla morbida quella palla Milik per il colpo di testa che poi Ildis purtroppo mette fuori alto di poco sopra la traversa da Locatelli con i giri giusti con i tempi giusti Locatelli ha fatto una gran prestazione Locatelli ha giocato decisamente meglio ieri rispetto alla partita col Milan dove invece ha trovato il gol a me è piaciuto molto di più ieri Locatelli e ha un voto più alto nonostante l'altra volta abbia fatto gol voto 7 questa è la prestazione lo standard di prestazione che voglio vedere da Locatelli all'interno di una Juve che non vuole nascondersi e a inizio anno vi dicevo esattamente questo e vi dicevo sarò più severo quest'anno con Locatelli perché se la Juve ha delle ambizioni più alte o vuole fare delle robe diverse deve passare da Manuel Locatelli e ieri sera credo che abbia fatto una prestazione super voto 7 voto 6 a Rabiot adesso io ho letto i commenti delle pagelle col Milan ho visto che non siete stati d'accordo con il mio 6 a Rabiot e dire che non mi è piaciuto tanto lo confermo anche oggi poi non so se perché ho ancora in testa un Rabiot diverso rispetto a questo ma anche ieri a me il Rabiot non è piaciuto ragazzi cioè mi sembra che possa fare decisamente di più e che stia facendo il minimo nelle sue potenzialità con la fascia da capitano al braccio è come un rinnovo che si sta discutendo perché non solo quello di Chiesa si sta discutendo si sta discutendo anche quello di Rabiot io credo che Rabiot possa fare di meglio e l'abbiamo già visto e credo anche che debba fare di meglio poi se qualcuno mi ha detto che sono prevenuto nei confronti non lo so non ne ho idea però sinceramente le prestazioni di Rabiot tra Milan e Lallas non mi hanno convinto e credo che possa dare decisamente di più quindi voto 6 perché non è un'insufficienza ma è una partita da compitino di contenimento e da quello che attualmente è il capitano della Juve io pretendo di più e quando lo farà sicuramente gli daremo dei voti più alti e quando mi convincerà non avrò problemi a riconoscerlo voto 5 a Kostic un altro di quelli che non mi è piaciuto credo che la fascia sinistra della Juventus la parte sinistra della Juventus sia stato un po' il punto debole a parte quella bella azione dicevamo prima costruita in velocità sulla sinistra però un po' troppo poco per poi far risultare come eccellente con la prestazione Kostic tantissimi cross come al solito credo che ne abbia fatto uno nello specifico davvero bello preciso quello perché nel secondo tempo colpo di testa ha sparato alto sulla traversa Kostic anche lui può fare decisamente di più l'abbiamo visto l'anno scorso e non mi sta convincendo e credo che il fatto che sia entrato Cambiaso e sia stato decisivo debba un attimo mettergli di pepe al culo detto proprio come vuol detta perché deve trovare la sua condizione e secondo me più fisica perché lo vedo proprio indietro dal punto di vista fisico poi ovviamente quando non va al fisico la testa entra in un brutto loop e di conseguenza diventa anche un discorso mentale ma dal punto di vista fisico non mi sembra di vedere il Kostic dell'anno scorso è strano perché nelle settimane scorse parlavamo di Bremer di Rabiot di giocatori che magari avevano quel bisogno in più di tempo in più perché fisicamente sono strutturati quindi sono dei diesel entrano in condizioni dopo Kostic non è quel tipo di giocatore uno che dovrebbe già essere abbondantemente in forma e non so se è un discorso relativo al fatto che a inizio campionato ha fatto due panchine di fila perché c'era un discorso di mercato non lo so però io non vedo ancora il miglior Kostic non vedo ancora il miglior Kostic voto 5 Vlaovic parte serba della Juventus ieri non benissimo oltre a quel pallone slisciato di cui abbiamo già parlato oltre a quel colpo di testa da posizione abbastanza comoda per un centravanti come Vlaovic per il centravanti della Juventus Vlaovic deve ritrovare cattiveria Vlaovic deve ritrovare quella cattiveria lì probabilmente deve ritrovare il gol per trovare anche un po' fiducia in se stesso gli attaccanti spesso fanno così però la prestazione di Vlaovic di ieri è sufficiente da qualsiasi parte la si guardi l'unica cosa che mi è veramente piaciuta di Vlaovic e questa la voglio sottolineare in mezzo a una valutazione negativa perché credo che sia giusto così è stato al secondo gol annullato a Ken un Vlaovic che continuava a dire va bene non succede niente adesso andiamo a farne un altro quella è la mentalità giusta però poi dentro la partita non ho visto il miglior Vlaovic ho visto fare una bellissima apertura su costi c'ha memoria di prima meravigliosa però poi voglio più cattiveria in zona gol è necessaria più cattiveria in zona gol perché la Juve deve ripartire anche da Dujan Vlaovic e poi permettetemelo mi perdonerete il voto è molto alto forse anche un po' provocatorio ma io glielo voglio dare perché se col Milan l'episodio dell'espulsione nasce da una super giocata di Ken meravigliosa giocata di Ken e la Juventus si ritrova con un uomo in più perché Ken fa quella roba lì anche ieri straripante l'uomo in più quanto sta bene questo in questo momento fisicamente un trattore ragazzi ma ha fatto il gol dell'1-0 che viene annullato che poi in realtà tocca a Vlaovic sarebbe di Vlaovic ma va bene io lo attribuisco a Ken perché tutta la giocata è roba sua ma è giocata di alto livello lasciamo stare che è la Sverona non stiamo parlando del Real Madrid non stiamo parlando del Barcellona non stiamo parlando del City prendiamo per quello che è Elas Verona un Elas Verona in difficoltà che dovrà salvarsi in Serie A va benissimo vuol dire che stai bene vuol dire che l'hai vista vuol dire che la sai fare vuol dire che in questo momento Moise Ken ad oggi probabilmente per quella che è la forma fisica degli attaccanti dell'Aventus Ken è il più in forma in assoluto e se Chiesa sta bene perché poi bisogna capire se Chiesa sta bene la coppia ideale in questo momento è Ken Chiesa perché Vlaovic l'abbiamo detto anche prima ci vuole più che Attiveria deve ritrovare con la fiducia non sembra avercela Milik lo vedo sempre un po' macchinoso e credo che che abbia quei 15-20-25 minuti a partita davvero fatti bene ma non di più e poi Ildis è un po' un punto interrogativo perché sinceramente non ho ancora capito qual è il livello attuale di Ildis in confronto alla Serie A ma Ken tanta roba è Ken veramente tanta roba e mi è dispiaciuto vedere Allegri che l'ha sostituito per quel giallo che è un giallo che prende qualsiasi cristiano sulla faccia della terra dopo due gol che ti vengano annullati cioè un giallo veramente da vergogna da parte dell'arbitro che è stato fin troppo fiscale ed è un giallo che poi va a condizionare la partita dal punto di vista sportivo perché Allegri sostituisce Ken e poteva ancora dare tanto bravo Moise veramente non ho altro da dire quindi spero che possiate condividere questo 7 e mezzo Serenzo Miretti primo dei cambi devo dire la verità non l'avevo compreso e non mi era piaciuta sulla carta la sostituzione di Allegri fuori VA dentro Miretti però poi la Juve è cambiata c'è poco da dire quindi bravo Allegri per averla vista bravo Miretti per averla giocata ha dato ritmo e qualità alla Juventus a Miretti manca una cosa sola per iniziare veramente a parlare di un giocatore che possa fare deve fare gol negli ultimi metri non mi piace ancora ancora troppo caldo non c'è freddezza negli ultimi metri e le occasioni le ha perché anche ieri ha fatto un tiro che poi è uscito a lato deve trovare quello lì e poi Miretti può diventare un giocatore può diventare un giocatore io credo che un gol faccia benissimo in questi casi perché sono giocatori che secondo me una volta che iniziano poi fanno fatica a fermarsi ma ad oggi Miretti è un giocatore che in zona gol è da costruire tutto ma per il resto ha dato ritmo a questa Juventus e velocità bravo Mire voto 6 e mezzo voto 6 e mezzo anche a Chiesa perché è stato così guardate ve la voglio mostrare così è come premere il pulsante quando accendi la televisione e premi il pulsante c'è un impulso un input che si riversa sulla televisione bene l'input della Juventus di andare ancora più forte l'ha dato Federico Chiesa cioè è entrato tiro a giro che impegna Montipò il tiro sulla respinta salvata sulla linea dei difensori tante volte che partiva largo puntava metteva la palla in mezzo ora ragazzi che difficoltà marcare sto Federico Chiesa maggior ragione se gioca cambiaso come esterno con Chiesa che si allarga e cambiaso va dentro il campo è una bella linea quella lì se prima parlavamo di Costi c'era più che a sinistra non hanno fatto bene Chiesa e Cambiaso a sinistra hanno fatto benissimo ed è da prendere in considerazione io ora sono sincero non so non so per quanto altro tempo se Chiesa e Cambiaso ti danno questo si potrà continuare a giocare con Kostic non lo so vedremo chi vi orà vedrà lo scopriremo solo vivendo voto 7 a Cancelo io sono molto sorpreso da questo ragazzo e chi ha visto tutte le pagelle in questa stagione lo sa perché perché Cambiaso è andato molto bene cioè le prime due da titolare ci vuole anche un po' le palle per giocarle con la Juventus soprattutto l'esordio a Udine fa un esordio meraviglioso poi ieri ha già trovato il suo primo gol alla decima giornata di campionato lui che di professione dovrebbe fare gli assist e invece dentro la partita oltre al gol pesantissimo ti fa anche tanto di più ti fa da cervello e quindi che altro dire se non complimenti davvero Andrea Cambiaso complimenti davvero Andrea Cambiaso alla prima stagione alla Juventus sono cose non scontate ma quando accadono sono cose meravigliose ha regalato un'emozione il gol di Cambiaso mi ha veramente emozionato tanto perché ci voleva perché era diventata una partita brutta l'avevo definita bastarda era diventata veramente bastarda stronza quasi più che bastarda e Andrea Cambiaso ci ha regalato i tre punti e la gioia di concludere il primo posto in classifica per una notte voto 6 e mezzo a Milik dicevo prima Milik è quel giocatore che secondo me devi centellinare perché non è pronto per per farti secondo me 45 minuti addirittura una partita titolare o almeno più che pronto non è più adatto a farle perché serve quel qualcosa in più dal punto di vista secondo me proprio dell'agonismo e se Milik ci mette anche l'agonismo perde poi la qualità che è la sua qualità più importante colpo di testa pesante va sul palo io pensavo avesse fatto gol Milik avevo già esultato poi quando ho visto che Cambiaso l'ha buttata dentro ero già più tranquillo avrete visto nella live reaction che ho caricato su Instagram e su TikTok e poi anche la palla che serve a Ildis è una gran palla quindi qualitativamente Milik ti alza il livello non so per quanto tempo ce lo può garantire voto 6 e mezzo perché è stato veramente pesante l'hai sentito l'ingresso di Milik e senza voto a Ildis perché dovessimo andare a pesare quell'occasione purtroppo sarebbe un 5 ma è entrato a 5 minuti dalla fine più 6 di recupero insomma è stata una partita non giocata da Ildis sarebbe stato veramente molto bello festeggiare l'1-0 con i gol di Ildis arriverà perché ripeto non ho ancora capito qual è il livello attuale di Ildis nei confronti della Serie A ma ad Allegri piace tanto anche il riservo l'ha ribadito e lo sta buttando nella mischia poi probabilmente si poteva dare un po' più di minuti a disposizione dato che la Juve non la riusciva a sbloccare ma arriveremo a vedere a capire anche di che pasta è fatto questo ragazzo qui e quindi niente signori questa era la mia analisi di Juventus e la Sverona fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti sono molto curioso di leggere le vostre opinioni e niente ci vediamo domani per capire anche in che posizione in classifica ci sveglieremo e cercheremo di fare il punto della situazione su di noi sugli avversari su questa Serie A che finalmente rivede la Juventus tra le prime della classe riusciremo a rimanerci vediamo speriamo